Tragedia in mare a Otranto, a ridosso della spiaggetta libera di Baia dei Turchi, una bambina di soli dieci anni ha perso la vita in acqua, negando davanti agli occhi del padre. È successo poco dopo mezzogiorno. La piccola Zara Minella, originale di Poggiardo, stava facendo il bagno col padre, tanto almeno secondo una prima ricostruzione dei fatti. Ma nel volgere di pochi minuti, il mare, piuttosto agitato e le forti correnti, hanno trascinato la bambina a fondo. La tragedia si è consumata anche davanti ad alcuni bagnanti. Il bagnino dell'Ido Accanto ha tentato di rianimarla una volta portata a riva in un lembo di spiaggia circondata dagli scogli. Tempestivo l'intervento del 118 e della Capitaneria di Porto di Otranto. Ma purtroppo, nonostante lo sforzo profuso dai medici, non è stato possibile salvare la piccola che è spirata dopo vari e vani tentativi fatti per rianimarla. Sul posto sono intervenuti anche polizie e carabinieri che stanno cercando, anche attraverso i racconti di chi ha purtroppo assistito a quei tremendi attimi, di ricostruire la dinamica della tragedia. In un primo momento, infatti, si era pensato ad una drammatica caduta dal costone, versione a questa al momento non confermata.